Grazie Presidente. In merito all'intervento dell'onorevole Scanu, del PD, vorrei far presente che quello che lui ha affermato nel tentativo di fare opera di condiscendenza nei confronti dei sardi, riferendosi all'onorevole Capello, di fatto quando Scanu parla di archetipo dovrebbe sapere, a meno che non è ignorante, che l'archetipo è senza luogo e senza tempo. Quello che lui ha fatto ha parlato di uno stereotipo. Quindi ancora una volta il PD da una parte non fa altro che mettere delle etichette e cercare di marginalizzare con frodi semantiche e cercare di marginalizzare in questo caso anche la Sardegna. Per cui da questo punto di vista il PD è coerente anche nel suo essere ancora una volta un perverso polimorfo e se lo vado a cercare. Grazie. Ringrazio e chiesto l'intervento.